Il più mi viene in mente è il fatto di quando ho iniziato anch'io il rapporto di attività tra bimbo, il rapporto del mio paese, di 3.000 abitanti, quindi le emozioni che vivevo all'epoca, quindi come un sogno, i primi calci, il rapporto con gli amici che iniziavamo tutti, vero male dopo la scuola, a riunirci e quindi passavamo i pomeriggi insieme, condividendo tutto quanto insomma, e quello che ricordo è un piacere di questo aspetto. Parole semplici, però credo che arrivano dritte al cuore, adesso poi saranno anche i ragazzi a farci qualche domanda, Emerson, che effetto ti fa incontrare i ragazzi? È bellissimo, anch'io mi ricordo quando aveva le vostre età, è bellissimo, è un piacere enorme stare qua con un buon lavoro, è anche un'emozione. No, aspettate un attimo, perché se lo facciamo facciamo proprio bene, perché posso dirmi una cosa?